Prima il pellegrinaggio in chiese nelle Marche in Emilia Romagna con foto e preghiere, poi i furti di oggetti devozionali antichi e anche in oro, uno spadino della Madonna della Dolorata, calici, pissi di corone, ostensori e fregi venduti in compro oro. Sono almeno otto i colpi contestati a vario titolo a due uomini della Catanese, domiciliati a Rimini, nell'ordine di custodia in carcere chiesto dal PM di Ancona Ruggero di Cuonzo ed eseguito dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio con i militari di Senigallia e Osimo. Gli arrestati sono Salvatore Rizzo, 34 anni, ritenuto l'autore materiale dei furti, in carcere da luglio per un altro furto ed detenuto dal 2008 e dal 2014. Salvatore Arturo Caudullo, 55 anni, collaboratore scolastico, presunto palo in alcuni dei blitz compiuti tra marzo e giugno. Prese di mira chiese a Castelfidardo, Senigallia, Piacenza, Pesaro, Faenza ed Imola. Alcuni oggetti sono stati recuperati in un compro oro a Rimini estraneo all'inchiesta, di altri però non si conosce la provenienza. Grazie.